Ciao, benvenuti nuovamente nel mio canale, in un mio nuovo video. Oggi parleremo dello sbieco. Recentemente ho comprato degli sbiecatori, di Tape Maker, da IT anche. Li potete cercare con questo nome, il Tape Maker. Fanno lo sbieco, creatori dello sbieco. Lo sbieco noi sappiamo che lo possiamo trovare in un qualsiasi merceria di tutti i colori, bianco, verde, nero, sia normale in stoffa, anche in cotone, lo possiamo trovare di varie altezze, ma anche in un tessuto elasticizzato. Qual è però il problema? Il problema è che non possiamo utilizzare magari quel colore preciso e identico, magari ad una parte di un vestito che stiamo facendo, di una maglietta, oppure di qualsiasi altra cosa. Come si può rimediare a questo problema? Creandoci noi gli sbiechi. Questo video sarà formato da due parti. Una parte che faremo oggi, come creare lo sbieco, quindi come da una stoffa crearci le nostre strisce di sbieco. video che dovevo già fare, ma che mi avete anche richiesto voi in un sotto mio video. Dunque, oggi vi faccio vedere tutti i passaggi che dobbiamo fare per creare uno sbieco. Perfetto. In un secondo video, la seconda puntata, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi nessun tipo di video che metterò nel mio canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella in modo tale da non perdervi nessun tipo di video. Nel secondo video vi farò vedere come creare dalla stoffa lo sbieco. Quindi noi abbiamo già creato i nostri sbiecchini. Dai nostri sbiecchini, grazie all'ausilio di questi tape maker, potremo creare i nostri sbiecchi. Ma questo sarà fatto in un altro video. In questo video partiamo dalla stoffa e creiamo i nostri sbiechi. I nostri strisce di sbieco. Non sbiechi, strisce di sbieco. Anche questo me l'avete chiesto sia in privato che sotto video. E anche le mie amiche mi hanno chiesto il favore se facevo questo video, perché loro non sanno creare lo sbieco. Ed è molto importante, secondo me, per personalizzare al meglio i nostri capi di abbigliamento. Ma adesso andiamo a vedere il video nel dettaglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.